In questa cappella c'è quello che provò di essere un po' di giro di giro nel mercato del laser, una macchina che migliora la performance perfettamente, la sicurezza, la qualità, il design e l'ease di uso. Parlavo del TOKA L2 20W, un laser di 800€ che mi piacciono più che alcuni altri laser che ho provato che costano praticamente 3 volte così. Inizio con l'unboxing, sono immediatamente piaciuto con il packaging premium, il packaging, con tutte le parti ben proteggene, ogni screw labellata e un manual di instruzione di passo per passo che è così chiaro che sembra venire direttamente da lego, con un grande design che è un piacere per gli occhi. Con le instruzioni così chiaro, l'assemblamento è molto divertente e veloce. Il laser viene praticamente preassemblato e dovrai solo costruire l'inclosione che si trova sull'interno del laser, mantenendo i fiumi fiumi contenuti, mentre anche proteggendo le ozze dall'interno del laser. Il laser che ho avuto viene con un laser di 20W, ma per la mia esperienza posso dire che il modulo laser è uno dei factori più rilevanti in qualità di laser, perché sono abbastanza equivalenti tra tutte le varie brand. Ciò che importa è l'esperienza, la presenza di funzioni subtili che rendono usare il laser così facile e divertente come possibile. In questo riguardo, la Toka L2 mi ha davvero impressionato. Il focus laser è semplice, con un livello che permettono il laser per essere facilmente scegliato e fermato in posto. L'assemblamento si tratta nella torre della macchina, liberando l'area di lavoro e permettendo di mettere facilmente il materiale nella macchina. Il laser è magnetico e può essere semplicemente riuscita per permettere di vedere meglio il dotto di laser mentre allineando la piaccia di lavoro. Anche di questo, il laser viene con un strip di LED, locato nella parte inferiore dell'interno, che mostra il status di macchina insieme con un buzzer che si tratta quando c'è un errore, con dei codi di errore per diverse situazioni. Altri cose semplici che rendono l'esperienza del utilizzo molto meglio sono i luci di gas che mantengono la porta aperta, i luci di LED che illuminano l'area di lavoro molto bene e l'acqua di vento e tuba di exhaust per expelare i fumi da un luogo per mantenere il tuo lavoro clean e sicuro. Questo laser viene anche con un software online online che permette di utilizzare facilmente e semplicemente la macchina per semplici e rapidi progetti con un interfaccio molto intuitivo e inizio di iniziale. Cosa permette di disegnare obiettivi e tanti con solo un paio di clic e viene già con un paio di preset per i materiali diversi e per incontrare o incontrare. È molto facile di differenziare tra i luci di incontrare, che ti permette di cambiare i parametri tra i luci. Ha un menu semplice per giocare la macchina e un botone per framerare il design. Ha veramente tutto che hai bisogno e nulla che hai bisogno. Per più demandanti progetti, puoi ovviamente usare LightBurn per ottenere il potenziale di potenziale di questa macchina. Questa macchina è veramente completa se comprata insieme con la città di città di honeycomb e l'assist pump, che può essere accettato esternamente e fa per corti più 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 più, specialmente in grado, anche per mantenere la luce più 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 più. Sendo questo laser con 20W di potenza optica, potenziale, può ingegnerare e tagliare un sacco di materiali con luce, come luce, acrilico, luce e anche potenziale per potenzialmente ingegnerare stile semplice a una velocità di 10.000 mm per minuto, permettendo anche di ottenere diversi colori per andare un po' più 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 più. Il laser viene con tutte le funzioni di sicurezza aspettate da una macchina di questo punto di prezzo e potenziale, come un usb key per uscire la macchina, un sensore che immediatamente scelta il laser se le lezze sono aperte, e una flamma e un detectore. Il fumextractor funziona molto bene, ma infortunatamente necessita la propria propria di potenza, quindi ha l'assist pump. Questa è l'unica funzione che non mi piace su questo laser, infatti per uscire bisogna usare 3 adattori di potenza, uno per il laser, uno per il fumextractor, e l'ultimo per il fumextractor. Non posso pensare di una ragione per andare questa volta, perché sarebbe meglio portare il fan e il fumextractor direttamente alla macchina, ma ancora non è un fumextractor ideale. Non ci sono molti problemi che posso pensare, questa macchina è davvero perfetta, soprattutto per considerare il punto di prezzo. È davvero intuitivo per usare sia con il fumextractor e il interfaccio web. Ha un'impeccabile precisione e qualità di ingrazione, con l'abilità di chiedere tra i moduli di 10, 20 o 40W. il moduli di diode laser. Ci permette di aggiungere una camera per posizionare super facile visualmente e anche supporta un modulo rotary roller che può essere aggiunto per ingravervi semplicemente obiettivi. Non c'è molto più da dire su questa macchina, altrimenti che è un'impeccabile pezzo di kit a un prezzo super giusto. Se vuoi ottenere uno per te puoi trovare un link sotto con un bellissimo discount code per aumentare il prezzo ancora più. È tutto per questo video, I will catch you in the next one!